Siamo al bagno Miramare, io sono con Luca Pantani che è il titolare di questo bagno qui a Marina di Grosseto Ciao Luca, abbiamo appena assistito qui all'ora del cocomero Il cocomero parte, perché il cocomero fa subito estate, si sente subito la voglia di star bene È ovvio che il cocomero un po' rappresenta l'estate Oggi pomeriggio abbiamo deciso di fare questo piccolo mini evento con i nostri clienti Giusto per ringraziarli della loro presenza qua da noi Parliamo un po' di questa struttura, che tipo di bagno è? Allora, è un bagno tipicamente anni 70-80, tanto è vero la struttura risale proprio a quel periodo Però è una situazione talmente carina e affascinante che sinceramente non ha bisogno di restauri come hanno fatto in tanti altri stabilimenti Chi viene qua? Chi sono i tuoi clienti abituali? Qui troviamo qualunque tipo di clientela, dalle persone più anziane, che sono tanti anni che vengono qui Si parla di 30-35 anni, a famiglie con bambini piccoli Tant'è vero abbiamo messo su un mini club che ha avuto un successo inimmaginabile È bello questa cosa, dei bagni che ospitano anche famiglie con bimbi Perché ci sono tanti bagni che non lo fanno, quindi è bello questa cosa Sì, è un'iniziativa dovuta anche al fatto che io ho due bambini piccoli Mi sono un po' messo dalla parte della clientela e ho detto Vediamo di dare il massimo per quelle che sono le nostre possibilità Così abbiamo pensato al mini club, abbiamo pensato alle strutture sportive per i ragazzi adolescenti E abbiamo pensato un po' anche alle persone un pochino più là con gli anni Facendo delle serate con piano bar, liscio, eccetera Luca, ti ringrazio Grazie a voi Grazie 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 a voi Grazie a voi